Buongiorno, sono Cecilia Castelli, rappresentante della Commissione Cultura e del Comune di Albiolo. Presento i nostri eventi, uno dedicato ai ragazzi, il 24 settembre. Tutti i bambini sono filosofi, è il titolo. Laboratorio già ampiamente sperimentato dalla docente Irene Colombo. Ed è un incoraggiamento alla riflessione per i bambini, un accompagnamento alla loro crescita, intesa come formazione di consapevoli, che imparino a scoprire il valore dello stare insieme e di rispettarsi reciprocamente. È a numero chiuso questo laboratorio, il numero dei partecipanti per ogni laboratorio sarà di 15 bambini e riguardi i nati nell'anno 2006-2007, quindi quarta e quinta elementare. Se l'esperimento avrà successo potrà essere poi ripetuto in altri comuni. Le prenotazioni avvengono inviando una mail all'indirizzo che è indicato nella brochure.